Il presidente del Ragusa Calcio, Nicola D'Amico, decide di dire addio al mondo del calcio e dedicarsi con serenità alla propria famiglia. Resta il dispiacere che risce D'Amico per non aver avuto l'opportunità di poter incanalare le giuste energie verso la squadra. C'è stato qualcosa che non è andato per il verso giusto, nel senso che non siamo riusciti ad avere quel supporto imprenditoriale che speravamo. Si è chiaro, non voglio addossare accuse nei confronti di nessuno. Cosa succederà adesso nel mondo del calcio ragusano? Intendo passare la mano, afferma D'Amico, fornendo assoluta preferenza a parità di condizioni, anche se queste condizioni dovessero risultare leggermente meno vantaggiose a imprenditori ragusani intenzionati a rilevare la società. E' ancora prematuro, continua il presidente, poter trarre conclusioni positive o concrete, come speravamo, ma qualcosa in ballo c'è. L'unica cosa certa è che non ci sarà Nicola D'Amico al timone, dalla prossima stagione. Ha colto l'occasione per ringraziare tutti coloro che, anche nei momenti più difficili, li sono stati vicini. Gli staff tecnici, i calciatori, i collaboratori che hanno sempre fatto il massimo per la società e, per ultimo ma non meno importante, i tifosi e tutti gli sportivi che hanno speso un pensiero per la squadra azzurra. Il suo augurio va alla squadra, augurandoli un futuro luminoso. Grazie a tutti.